Amici delle spettatori, buongiorno, ci troviamo a Largo Guglielmo Pepe, a fianco del Teatro Ambra Iovinelli per un brunch con Enzo Foschi, candidato del Partito Democratico alle elezioni regionali del 28 e 29 marzo. Senta Foschi, abbiamo visto tanti manifesti suoi in giro per Roma e non solo, non c'è mai una volta il suo volto, come mai? Perché il mio volto sono i cittadini rappresentati su quei manifesti che ognuno dei quali indica un tema e un problema sul quale mi sono impegnato a lavorare. Io penso che la politica debba in qualche modo anche recuperare una funzione di servizio, una coerenza tra i valori che si propugnano, si raccontano e le cose che poi si fanno. La mia campagna elettorale è fatta da gente comune perché l'obiettivo che io mi sono sempre posto dal momento in cui ho iniziato a fare politica, cioè da ragazzino, è quello di far sentire la gente comune protagonista anche del governo dell'istituzione a quale stavo, prima al Consiglio Comunale di Roma, oggi alla Regione Lazio. È una grande innovazione perché in genere siamo abituati a vedere per Roma e non solo per Roma, ma per tutta la provincia enormi manifesti con i visi e le espressioni dei candidati. Lei invece ha rivoluzionato tutto? Ma io non ho rivoluzionato nulla, ho semplicemente fatto me stesso perché penso che poi durante le campagne elettorali a volte le persone si trucchino per apparire quello che non sono. Io semplicemente cerco di essere me stesso sia nel momento in cui faccio l'amministratore sia nel momento in cui faccio, come oggi, appuntamenti di campagna elettorale. Senza ritocchi e senza raccontare frottole che francamente non serve raccontare ai cittadini se non li si vuole prendere in giro. Il ritocco inventato da Berlusconi credo che ora sia appannaggio anche di altri candidati, anche del centro-sinistra, così mi pare di vedere a Roma. Ma detto queste cose, lei ha presentato già qualcosa sullo sport, oggi la cultura. Quali sono i personaggi del mondo della cultura che la sostengono? Ma anche qui, il mondo della cultura è un mondo variegato, non è che le prime fila in qualche modo debbono rappresentare chissà che. Io penso, ho lavorato molto soprattutto con le compagnie teatrali, col mondo del cinema, col mondo dell'associazionismo culturale, a difesa del diritto di chi fa musica di poterlo fare, penso agli artisti di strada. Sono mondi che magari finiscono poco sulle prime pagine dei giornali e sotto i riflettori della televisione, però sono mondi importanti perché creano anche quell'humus culturale dentro una città come Roma che ti dà il senso anche di vivere in una città libera, migliore. Non è un caso che siamo qui all'Ambraio Vinelli. L'Ambraio Vinelli quando fu riaperto dalle amministrazioni centro-sinistra in qualche modo significava anche il rilancio di una città. Oggi questo teatro sta chiudendo nel disinteresse di un'amministrazione comunale ed è anche il simbolo del decadimento e del fatto che questo sindaco che attualmente governa Roma se ne frega anche di far vivere momenti importanti come lo sono l'Ambraio Vinelli ma anche il teatro di Ostia. Perché è stato liberalizzato se non sbaglio, c'è stata una grande manifestazione proprio ieri a Ostia. Ieri abbiamo fatto una grande manifestazione con l'obiettivo di porre il tema che a Ostia l'unico teatro comunale da mesi 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 è chiuso e i dipendenti di quel teatro non sanno più come tirare avanti. Ora io penso che vada data una giusta solidarietà a chi lavora in questi mondi però allo stesso tempo nella consapevolezza che la battaglia per affermare il diritto alla cultura è una battaglia di democrazia e di libertà e in un momento in cui democrazia e libertà rischiano di apparire parole vuote la cultura è lo strumento che può in qualche modo invece riempirle di senso. Voglio dire che l'impegno che prendo è quello a fare una legge quadro sul cinema di cui c'è assolutamente necessità e bisogno. Una competenza della Regione perché c'è la riforma dell'articolo quinto della Costituzione che è un potere che la Regione ha, una legge sulla musica e lo spettacolo dal vivo anche qui su cui c'è un gran bisogno. Hai proposto anche qualcosa per le filarmoniche tempo fatto? Già una legge sulle bande musicali e sui cori a sostegno e poi io penso che ci dovremmo porre il tema di come riusciamo anche in una ottica di tutela sociale a garantire magari per tutti quelli che lavorano di cinema e teatro che nel momento in cui perdono il posto di lavoro e non sono tutelati dall'attuale legislazione invece abbiano l'opportunità di poter avere questa possibilità. Un'ultima domanda, noi siamo storici perché tre anni fa stavamo qua però mi sembra nel febbraio 2007 quando stava nascendo il Partito Democratico ancora non era nato, che effetto le fa a ritornarci dopo diversi anni a parte che c'è stato ma proprio qui all'Ambra Iovinelli e vedere se le prospettive dell'ora sono state realizzate? Assolutamente, io penso che il Partito Democratico ad oggi non è quello che noi ci siamo raccontati qui all'Ambra Iovinelli, il problema è farlo quel Partito Democratico lo faremo attraverso questa campagna elettorale vincendo le elezioni regionali con Labbonino e lo faremo subito dopo con la fase congressuale di Roma dove finalmente dovremo avere un partito che pone al centro i problemi della gente e non magari dei capi bastione che purtroppo per troppo periodo hanno imperversato all'interno di questo partito. Quindi per votarla basta mettere la famosa croce sul simbolo del PD e scrivere Foschi o Enzo Foschi? Assolutamente sì, questo voto va a me, va al partito e va alla candidata del centro-sinistra Emma Bonino. Buona candidatura. Grazie.